Luca volevo dirti che abbiamo avuto un'idea come la vedi un video fatto dai diciamo dal bagno molto carino ma cerchiamo però di fare una cosa corporate ma scusa non ho capito quindi dobbiamo stare tutti insieme a fare questo lavoro no no ma non è che lavorate tutti lì è solo per incontrarci lì decidere cosa si fa e dopodiché ognuno da casa proprio quindi confermato eh lo facciamo dal bagno questo video perfetto direi che è l'esatto tipo di video che ci serve in questo momento per far vedere dai che c'è colore sto facendo lo smart working